Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Cosa ha detto la regina Elisabetta poco prima di morire? Le parole che hanno commosso tutti La morte della regina Elisabetta ha lasciato senza parolo il mondo intero Tutti, infatti, erano molto affezionati alla sovrana inglese, che ha regnato per ben 70 anni Ora sul trono è salito il figlio Carlo e sulle sue spalle sono calate numerose responsabilità Fardelli di certo non facili da portare. Pare infatti che il nuovo re senta, comprensibilmente, molta pressione su di sé Dovrà infatti dimostrare di essere all'altezza della defunta madre, compito molto arduo soprattutto per lui, che non è mai piaciuto molto al popolo britannico Oltre a questo, pare che il compito più difficile di tutti gliel'abbia assegnato proprio la regina prima di morire Le parole della regina Elisabetta a Carlo prima di morire.Stando a quanto riportato dai principali giornali internazionali, pare che la regina poco prima di morire abbia detto a Carlo, ora sei il re, salva tu la nostra famiglia Vede riunita la famiglia reale, infatti, era il più grande desiderio della defunta sovrana, che ha sofferto molto dopo l'allontanamento del principe Harry e il suo trasferimento in California Queste parole hanno prevedibilmente commosso tutti i fan della royal femmini, che non hanno potuto non immedesimarsi nella regina, costretta a vivere gli ultimi anni della sua vita senza poter, quasi, mai vedere il suo amato nipote Anche il principe Harry è apparso molto disorientato e addolorato dopo la morte della sua adorata nonna, e molti non hanno potuto non chiedersi se il triste evento non abbia indotto Harry a ripensare alla scelta fatta qualche anno fa di prendere le distanze dalla sua famiglia Che che se ne pensi, pare sarà molto difficile per Carlo riavvicinare Harry a Palazzo Reale Il principe si è infatti ormai stabilito in America con moglie e figlie dopo il trattamento poco rispettoso riservato a Meghan, che pare sia stata trattata con sdegno durante il funerale della regina Non sembra essere intenzionato, almeno per il momento, a ricucire i rapporti con i suoi familiari Intanto tutti aspettano con il fiato sospeso la pubblicazione del libro bomba scritto di suo pugno che promette di far accapponare la pelle a più di un membro della Royal Family Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti